Questo è un problema concreto, perché mancano le mascherine. Abbiamo invitato i colleghi a predisporre sul banco delle barriere in plexiglas per ovviare alle mancanze di condizioni di sicurezza. Stiamo lavorando con Cittadinanza Attiva, di cui ringrazio il Segretario Nazionale Antonio Gaudioso, per reperire il primo lotto di mascherine da mettere a disposizione gratuita di tutti i colleghi. Purtroppo non tutte le farmacie dispongono di spazi sufficienti per garantire le giuste misure di sicurezza previste dalla norma. Abbiamo chiesto alle autorità di poter fare il servizio a battenti chiusi, ovviamente su base volontaria, previa autorizzazione delle autorità competenti, laddove non si possano garantire le condizioni previste dalla legge. Per venire incontro ai cittadini abbiamo predisposto due numeri verdi per la consegna domiciliare del farmaco, uno gestito direttamente dalla Federpharma e un altro gestito in convenzione con la Croce Rossa italiana. Le domande sono moltissime ed è giusto che i cittadini cerchino di muoversi il meno possibile. Noi con questo grande sforzo organizzativo cerchiamo di venire loro incontro perché si muovono da casa il meno possibile.